Musica Non mancherai delle mie live su youtube se vuoi provare a vincere skin di base battaglia o V-Bucks In questo nuovo video ti è benvenuto e andrei appunto a vedere come riscattare la nuovissima copertura gratuita Furia della furia su Fortet Provengo in generale appunto a farvi vedere il codice esatto da inserire appunto e riscattare questa copertura gratuita Qualcuno ti ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale tenendo la campanella delle notifiche Così si siamo aggiornati su questi miei video e live uno skin di base battaglia Infine con i video su video ci sento amici e muovete anche a loro Come riscattare questa nuovissima copertura gratuita furia della furia su Fortet Quindi partiamo subito tra pochissimo vi farò vedere direttamente il codice da inserire appunto sul sito di Epic Games Per riscattare sul vostro account di Fortet questa nuovissima copertura Infatti andiamo a leggere proprio l'articolo E appunto Fortet durante il periodo di Fortet l'Inquo quindi durante questo evento di Halloween Ha deciso di inserire nella modalità creativa 4 isole in evidenza Appunto in queste 4 isole in evidenza ha deciso di nascondere delle cifre misteriose Appunto mettendo insieme tutte queste cifre che si andavano a trovare Possiamo appunto ricevere un codice che ci servirà per riscattare appunto questa copertura Quindi appunto voi non dovete neanche andare a cercare queste cifre Perché già abbiamo il codice completo Quindi il codice è valido per tutti basta semplicemente inserirlo e appunto vi darà questa copertura Quindi appunto questa copertura la potete riscattare fino al 27 ottobre all'ora 16 ora italiana Quindi appunto avete ancora 3 giorni, 2 giorni di tempo Quindi adesso vi farò vedere il codice e per riscattarlo dovrete andare sul sito di Epic Games Nella sezione riscatta codici oppure cliccare sul link qui sotto in descrizione C'è cliccate, collegate il vostro account di Epic Games se ancora non l'avete fatto E appunto vi riscattate questa bellissima copertura Che poi è una copertura però lo stesso è gratuita quindi ci va bene Quindi andiamo subito a vedere questo codice e appunto eccolo qui a schermo Infatti io già lo sono andato a riscattare e vi faccio vedere questa immagine E appunto questo codice è esattamente AU9NJ-BLVHV-TCLJS-54YTB Quindi inserite questo codice anche i trattini dovete inserire e appunto fate riscatta Un'altra che avete fatto riscatta vi uscirà questa schermata Confermi di voler attivare questo codice sul tuo account e fate appunto attiva E vi darà questa copertura Quindi davvero semplicissimo ricordo il link qui sotto per riscattarlo Il codice è questo, ve lo lascio ancora a schermo qui da qualche parte Infatti siamo proprio qui nella schermata di Fortity perché lo andiamo proprio a riscattare in diretta Infatti ho riscattato il codice e adesso andiamo anche a prendere questa copertura in game Quindi facciamo accesso, accediamo su Battaglia Reale Quindi un video abbastanza corto questo giusto per mostrarvi questa copertura gratuita Che appunto è disponibile Infatti ecco lì oggetti acquistati lì sopra uscito Ok facciamo Battaglia Reale ed ecco qui adesso la nostra nuovissima copertura Connessione in corso, dovrebbe apparire la schermata, vediamo, vediamo, vediamo Ecco qui la copertura Furia della Furia Mostra il tuo stile, fa parte del set Maledizione Criptica Ecco qui oggetti ottenuti, grazie per il gioco da Fortity e molto altro Quindi davvero una copertura molto molto bella che va proprio a richiamare questo evento di Halloween Facciamo anche riscatto, andiamo a vedere un po' come si comporta, come è di tutti quanti i tipi di armi Infatti andiamo a selezionare, ok la copertura è esattamente questa Quindi facciamo Applica su tutti, ecco qui la copertura come si vede sull'elicottero Ok è abbastanza bella diciamo Poi ecco qui sullo Scar Poi andiamo avanti, vediamolo invece com'è sul pompo Ok sul pompo è davvero molto bella Poi vediamo invece sulla mitraglietta, ok Poi passiamo avanti, vediamo sul cecchino Infine vediamo sulla Revolver E per concludere sullo Sparabende Quindi diciamo questa wrap è abbastanza bella Anche se è gratuita, quindi qualsiasi cosa è gratuita va lo stesso bene Quindi spero di essere stato il più chiaro possibile Il codice è ancora questo qui a schermo Andatelo ad inserire sul link qui sotto in descrizione E portatevi a casa questo regalo, questa ricompensa gratuita Dell'evento di Forte Telincopo Quindi io spero che questo video sia stato d'aiuto Se così vi ricordo di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale e attivate la campanella Delle notifiche Così siete sempre aggiornati su questi tipi di video E levo lo schino basso a taglia Infine condividi il suo video Ci sentiamo amici e mi vedete anche a loro Appunto come riscattare questa nuovissima copertura Furia della furia gratuitamente su Forte Noi ci vediamo un prossimo video Alla prossima live Grazie a tutti